Gilardino Day doveva essere al Signorini di Pegli, Gilardino Day è stato l'attaccante nuovo, attaccante del Griffone, ex Viola ormai, si è fatto attendere una ventina di minuti, non per colpa sua ovviamente, tutti gli intoppi burocratici sono andati per il meglio, sono stati espletati e dunque attorno alle 15.20 quando la squadra ormai si allenava appunto da 20 minuti, l'attaccante si è fatto vedere anche lui sul terreno del campo di gioco di Pegli, grandi applausi da parte dei tifosi per lui. E dunque prima seduta ufficiale con la maglia del Griffone, Gilardino che a questo punto si candida fortemente per giocare già da titolare nella sfida di domenica a Cagliari anche perché non ci sarà Rodrigo Palassio a proposito del gruppo a disposizione di Pasquale Marino che si è allenato davanti ai moltissimi tifosi come dicevamo, appunto l'argentino non ha preso parte alla seduta d'allenamento, per lui ancora problemi fisici differenziato e dunque la gara contro i Sardi dovrebbe sicuramente saltare. Per il resto tutti gli uomini a disposizione del tecnico, a partire dal portiere Sebastian Frecchi ha salutato ovviamente l'ex compagno di squadra che ora è tornato ad abbracciare e col quale potrà intraprendere questo cammino del Genoa. Un nuovo campionato dunque che inizia per il Griffone, bussa ancora il mercato alle porte del presidente Enrico Preziosi che deve ancora tornare da Dubai. Di fatto però la squadra rimane fortemente concentrata, analisi di video anche prima di questo allenamento per studiare al meglio la formazione dell'ex Ballardini e per ricominciare nella maniera giusta dopo aver archiviato un 2011 che si era chiuso come sappiamo con il brutto 6 a 1 di Napoli. Anche il cambio alla guida tecnica. Dunque Girardino in campo a Pegli, per lui gli applausi dei tifosi e grande voglia di rimettersi in gioco con la maglia del Griffone.